Buonasera a tutti, in questo video volevo parlare di ciò che pensano molti musulmani. Molti musulmani pensano che il profeta Maometto sia il profeta più grande. In realtà Maometto fu soltanto, se consideriamo anche l'Antico Testamento, un profeta come gli altri. Pensiamo che ci fu Isaia, ci furono anche i cosiddetti profeti minori, che furono Abdiya, Amos, e ci fu il profeta Esdra. Quindi in poche parole tutti i profeti hanno profetizzato fino al Messia. Anche nel Corano troviamo proprio la profezia che riguarda il regno messianico, Sura 19, versetti 60-63. Quindi nessun profeta può essere considerato più grande di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è il Messia, il primo angelo di Dio. La Sura 2,98 parla dei due grandi arcangeli, che sono Gabriele e Michele. In Daniele 12,1 viene detto chiaramente, viene fatto capire nella Bibbia, che il Messia è proprio l'arcangelo Michele. Quindi anche il Corano dice che Gesù è il profeta per eccellenza. Quindi no, il Corano dice nella Sura 5, versetto 111, credete in me, nel mio messaggero. E non si riferisce al profeta Muhammad o profeta Mametto, ma si riferisce proprio a Gesù di Nazareth. Quindi no, io non sto dicendo che il profeta Mametto non fosse un profeta, lo era. Ma come tutti gli altri profeti che l'hanno preceduto, non fece che profetizzare l'avvento del Messia, che avverrà proprio negli ultimi giorni il suo ritorno, come aveva promesso Gesù. Quindi come l'avete visto salire in cielo, egli dal cielo deve tornare. Quindi nessun profeta è più grande. Molti musulmani dicono non c'è altro Dio che Allah, è Muhammad il suo profeta. In realtà dovrebbero dire non c'è altro Dio che Allah, è Gesù il suo profeta, perché egli è il profeta per eccellenza. Ma è anche il primo angelo in cielo, l'arcangelo Michele, l'angelo del trono, il primo che Dio creò. Quindi in poche parole, per esempio se noi guardiamo la Sura 6, Al-Anam, versetto 9, dice E se avessimo designato un angelo, gli avremmo dato aspetto umano e lo avremmo vestito come essi si vestono. Quello che è stato fatto con Gesù. Quindi Dio lo ha reso uomo, ha fatto del primo angelo un uomo e profeta su questa terra, il più grande, l'unico senza peccato. Molti musulmani questo non lo capiscono, non lo capiranno mai, ma lo devono capire. Perché convertirsi al Messia significa accettare questo. Se noi guardiamo la Sura 6, 122, che molti musulmani non sanno interpretare, non capiscono, dice Forse colui che era morto, al quale abbiamo dato la vita, affidando di una luce per camminare tra gli uomini, sarebbe uguale a chi è nella tenebre senza poterne uscire? Così sembrano graziose e miscredenti le loro azioni. Se noi esaminiamo questa Sura, colui che era morto e al quale abbiamo dato la vita, nel film di Zeffirelli Gesù dice che il terzo giorno Dio lo avrebbe resuscitato. Il Corano conferma la Bibbia, non dicono cose diverse. Qua conferma la resurrezione di Gesù. In Corano 458 dice Dio lo elevò a sé. Quindi noi crediamo nel Messia. Il Messia non è Dio, il Messia è il primo angelo di Dio che è divenuto uomo su questa terra, per volontà di Dio. Il più grande profeta, nessuno è come lui e sarà re negli ultimi giorni per volere di Dio. Noi crediamo al Messia, credeteci anche voi, perché lui sta per tornare e il mondo sarà giudicato da lui per volere di Dio. Con questo è tutto, vi saluto. Con questo è tutto, vi saluto.